Il nuovo fermo della produzione al pastificio Agnesi d'Inferia, stop forzato da sabato fino al 23 agosto, preoccupazioni e accuse dei sindacalisti. Il vicepresidente della regione, ossessore Sonia Viale, punta il dito contro il governo per i nuovi tagli alla sanità, previsti 2 milioni di euro in meno. Nuova serie di controlli dei carabinieri nel ponente Ligure, raffiche di denunce per possesso di droga e guida in senza patente. Preoccupazione a Genova per il futuro dei centri per l'impiego a causa della mancanza di risorse e le rascorazioni della regione. Il neocommissario della Camera di Commercio d'Imperio, Franco Amadeo, delinea il lavoro in vista del nuovo ente unificato con Savone e Spezia. Ci sentiamo tra poco, tanta notizie su Imperia TV.